Si chiama Michelangelo Lomonaco e dall'aprile 2010 è segretario generale del comune di Taormina. A quell'attività da oggi si aggiunge la gestione della provincia regionale di Catania, in quanto nominato commissario straordinario come ultimo atto dal presidente siciliano uscente Raffaele Lombardo, all'indomani delle dimissioni di Giuseppe Castiglione. Noi l'abbiamo incontrato al momento dell'insediamento ufficiale e anche della firma congiunta con il segretario generale dell'ente provinciale Francesca Ganci. Primo tra tutti occorrerà sciogliere il nodo del debito con l'IFI, la cui delibera firmata da Castiglione dice non ha risolto il problema, ha avviato un ITER e poi ha parlato delle altre priorità. Qual è la prima azione che intende svolgere in provincia? Io speravo già oggi stesso, oggi pomeriggio stesso di incontrare il responsabile delle finanze provinciali perché sin da subito dobbiamo affrontare il problema legato alla delibera che ha adottato il Consiglio provinciale con cui di fatto è stata certificata una situazione di precrisi della provincia. E' chiaro che quella delibera non ha per nulla eliminato il problema, è stato soltanto un campanello d'allarme, ha di fatto posto l'attenzione su un problema reale, ma questo problema reale deve essere risolto entro termini perentori e con contenuti che devono essere valutati da organi diversi dalla provincia stessa. La mancata approvazione di questo piano avrebbe delle conseguenze dannosissime per l'ente, quindi è una lotta contro il tempo, proprio per questo appunto da qui l'urgenza dell'esercizio delle mie funzioni, da qui la necessità sin da subito di mettere mano a questo piano di risanamento. Lei ha intenzione di guardare un po' tutti i conti della provincia? Il mio compito ovviamente non è finalizzato esclusivamente a verificare i conti, in questo caso vanno verificati i conti per far sì che si possa raggiungere il pareggio e quindi si possa ottenere un completo risanamento di quella che è la situazione debitore, che peraltro ad oggi non conosco nel suo esatto ammontare. Intanto sulla nomina di Lomonaco, il neopresidente della regione, Rosario Crocetta, ha scritto una lettera a Lombardo. Leggo dalla stampa che ancora oggi vengono firmate dall'Aggiunta e dai suoi assessori i provvedimenti relativi a impegni di spesa, incarichi e contributi. A parte i criteri di legittimità, che sono sicuro gli uffici avranno valutato attentamente, essendo noto che nel periodo precedente e successivo alle elezioni non è possibile per leggere dare alcun contributo, ritengo che al di là della proclamazione formale, non vorrei trovarmi di fronte a molti provvedimenti da dover annullare in autotutela. Sottolineo inoltre, prosegue Crocetta nella missiva, che le situazioni della finanza regionale meriterebbero sicuramente un'attenzione maggiore rispetto a impegni di spesa, che potrebbero sembrare opportuni all'attuale Giunta, ma probabilmente non in linea con i miei indirizzi di rigore e spending review. Le sarò grato se eviterà di farmi trovare in situazioni che potrebbero crearmi imbarazzo. Sulla vicenda, Lomonaco minimizza. Non ritengo di dover affrontare il tema delle polemiche politiche che sono sorte con la mia nomina, ritengo al contrario e pongo l'attenzione di tutti coloro che in questo momento si stanno affrettando a fare dei commenti su questo nome, pongo l'attenzione sulla drammatica situazione della provincia e sulla necessità di non perdere neanche un solo pomeriggio, non un solo giorno, neanche un solo pomeriggio di lavoro perché, ripeto, i termini perentori che sono ad oggi non superiori a circa 30 giorni e se teniamo conto dei giorni festivi e di quelli che sono gli adempimenti ulteriori, io ritengo che veramente forse il termine è abbondantemente scaduto per mettere mano a questo risanamento di questa provincia che ritengo, anche se non conosco bene gli atti, che ritengo comunque possibile ma con uno sforzo enorme e sin da subito. Di fatto comunque Lombardo non è più Presidente della Regione, si corre il rischio che la sua nomina decada? C'è un ente che deve essere amministrato, che deve essere gestito, ci sono degli atti che abbiamo capito essere urgenti e indifferibili, quindi questo rischio lo corre l'ente stesso, certamente non sono delle persone fisiche, se lei si riferisce a me, certamente non sono io a dover correre questo rischio e la stessa cosa ritengo il Presidente della Regione che responsabilmente ha fatto questa nomina, quindi il problema dovremmo chiederci per chi è, se è per le persone o è per l'ente. Mentre intervistato da noi a Blog TV in onda questa sera, Giuseppe Castiglione commenta così l'azione di Lombardo. La provincia di Castiglione è diversa dalla provincia di Lombardo, che aveva 35 milioni di spesa del personale, oggi ne ha 27, di una provincia che aveva 38 dirigenti, di cui 27 esterni, oggi ne ha solo 11 interni, di una provincia completamente diversa, io non vorrei pensare nemmeno che un atto nei confronti di Castiglione. Oggi sul piano nazionale si parla di patto di stabilità, si parla di armonizzazione dei bilanci, si parla di contrazione della spesa, si parla di qualità della spesa, tutto il contrario di quello che lui ha fatto alla Regione. Chiude ingloriosamente una gestione totalmente negativa, gli ultimi atti si commentano da sole.